Oh yes, brava, brava brava, brava, brava brava, brava, brava 1, 2, 3 Ciao ragazzi e ragazze No, 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 scusa, c'è una figlia che fa video su sta cazzola di piattaforma da 4 anni e non c'è nemmeno la mia intro Com'è la mia intro? Mamma, non ci devi far pensare Ma cos'è? Quello là come facevi? Non è salve? E com'è? Mamma sei vergognosa? Ciao ragazzi e ragazze, oggi vi facciamo un nuovo video e se riceve 200.000 like facciamo un altro video con mia mamma che ecco la mia mamma che Vabbè, mia mamma e io vi salutiamo, raga, e cominciamo video Oggi ragazzi siamo qui perché ho notato che il video di Follettina Creation, il compagno di mia mamma Vi è piaciuto così tanto che siamo arrivati a 500.000 visualizzazioni, cioè mezzo milione di persone hanno visto questo video e questo mi ha fatto innescare un qualcosa nel cervello perché ieri mia mamma, secondo che non so per quale motivo mamma si guarda i video di Follettina, è entrata in camera ridendo io ho detto no perché io non guardo il suo canale quindi no mi ha detto praticamente che lei ha fatto un video dove cucina io in cucina non so fare niente quindi sinceramente non so se c'è qualcuno che mi può superare in questa ardua impresa ma se Follettina Follettina si il video si chiama in cucina con Follettina la ciambella babà al room io direi di iniziare immediatamente perché sinceramente se volete un altro video reaction di Follettina, mi raccomando raggiungiamo i 25.000 like mi raccomando ragazzi spoliciate se volete un altro video di Follettina in compagnia sempre di mia mamma perché lei è sempre qua io non la invito è lei che si autoinvita vabbè questo è il mio campo della cuscina almeno qui possiamo sbizzarrirci 3,2,1 sento il ripido come sempre perché non è questo il resto? ho trovato questa nuovissima video ricetta oggi per questa video ricetta faremo una specie di babà room e lo faremo con me io ho visto la video ricetta da una nonnina dolcissima su youtube che fa video ricette napoletane nooo vi elenco gli ingredienti dal mio quadernetto degli ingredienti hanno quadernetto degli ingredienti ok aspettate ecco qui perchè non sa leggere lei già ha tachicardia mamma di guarda che smalto orribile non si è messo in smalto e poi è tutto consumato nooo porco due che schifo outfit suo è ma come ti vesti già già come ti vesti lo zucchero proprio piace si guarda c'è la crota di manee dentro al piatto sale sale non si sa i grammi ma la gente ci mette coppette io metterò anche una bustina di lievito per aiutare la lievitazione nooo tu mi hai detto tu mi hai detto sempre la cosa più difficile editare e fare sono i video di cucina si perchè ti fa vedere gli ingredienti si non mi li fa mai perchè a droga a droga a droga guarda i fazzoletti da questo oh mio dio noi portiamo le uova dentro ma perchè non si vede ci andrebbero quattro uova ma io le metto per me non sta mettendo niente le uova proprio quei cocci ma preparati prima quell'ingrediente che so e li pulisci se lo stesso fazzoletto ma cioè noi dobbiamo guarda tutto il tempo si pensavo che non l'ho mai fatto quindi ci sto provando sputacchio in bosta potrebbe anche riuscire un epic fail un epic fail guarda che c'ha a mettere gente nooo nooo il tutto è un po' scioccato ma poi frusta con le cose di legno ma facenti che intrattenimento lei in cucina non capisci poi una mazza ma lei c'ha giù con una mazza in generale ma poi abbiamo qui il maritozzo con la panna maritozzo con la panna con un ospite salutate oddio chi è la vittima che ha vicino di me ma perchè ti sei rovinata la reputazione adesso ah e finalmente una la ricetta ma poi con la frusta di legno ragazzi io di cucina me ne intendo però cioè per fare il babà mamma aspetta questa parte più importante quando si pulisce per l'ennesima volta le mani ah no senti che rumore suave mamma ma quel tuo pieno di grumi ma che in burra guarda come in burra guarda ma non avevi preparato guarda c'è un bel frustino indietro da amazon ti ha mandato qualcuno ti ha mandato qualcuno da amazon frustino ma usalo no scusa eh adesso guarda guarda come in burra con c'è 8 kg di burro per me no cacchio il burro che sta a mettere 8 kg di burro raga questo la teno tutta la notte fuori ah raga ma c'è più burro che impasto no questo è una scusa ma guarda che schifo lo so però c'è un filo di burro quel burro poi si appiccica e non fa crescere l'impasto 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 a parte che non doveva frustare i bianchi ma io sono un attimo scioccata perché sta veramente facendo schifo guarda come l'igiene è proprio zero eh io non cioè in cucina l'igiene è zero ma io la voglio vedere ad una fiera sta donna no io la voglio vedere da masterchef io la voglio con qualche programma ecco dopo aver imborrato la teglia mettiamo il composto all'interno guarda che chalance guarda quella quella di area pieta di grumi poveri napoletane si stanno tagliare bene le donne napoletane c'è tutto da una parte poi l'ho messo è proprio stupido non è possibile ma perché l'ha messa tutta da una parte il d'impasto che non ci arriva con la testa dopo vedrai il risultato ma è normale che dopo un impasto è piena di grumi ma come fai a venire babà babà è soffice deve essere light poi i bianchi vanno sbattuti poi ci devi fare un altro io ce la visco niente quindi per me può essere anche perfetto però ne va a parlare il cuoco perché c'ha tutti sti grumi guarda come lo sta spommando ma mica è mascarpone per fattirami sua bella io non lo so sto prendendo solo mamma perché io sicuramente non ho ma perché sbatte adesso dobbiamo lasciarlo a lievitare per un po' e dopo lo inforniamo a 180 gradi guarda da una parte tutto impasto come è rimasto 30 minuti ci vediamo quando il dolce è pronto eccoci qua folettini e folettine è pronto eccolo qua momento dalla parte che cos'è per me 150 grammi può dare lo stesso può dare lo stesso ma non c'è rum quello si acqua e zucchero ah ok pensavo era rum questo è il pezzo che preferisco mettiamo piano piano un po' di rum un po' di rum un po' di rum mezzo cazzo no la no mezzo bicchiere di rum ma no ma ok rumazzo proprio questo è e che ci fa io dopo la metterò su quando era fredda con le maglie e la bagna perché non ho un pennello ah non lo fa a bollire non lo fa a bollire ma lo fa a bollire il bagno non va a bollito se ne prego Ma qualche gira sempre con sto cazzo Sì, ho fatto tutto con sto cazzo C'è seppettina C'è seppettina No, guarda quanto è piatto Questo sarebbe il babà Ma come la mette? E come la mette con le mani? No, guarda, guarda No, no, no Cannavaciolo, dici qualcosa Fa qualcosa Guarda, guarda Batesimo, sta battezzando No, no, mamma, mamma, per favore Che santifico Il nome di Amen A bacine No, poteva fare C'è la prima prendere il cembrellone e buttarlo dentro Raga, qui sono morta, veramente Scusate, napoletano Posso sapere una cosa? Perché sto babà è più rum che babà? Ma almeno è buono No, ma come fa a essere buono? Non è lievitato È basso così Cioè, la cucina italiana è stata veramente Il dolce più buono Ok, è più veloce di me a parlare Ciao a tutti, alla prossima Finito Speriamo di no Io, è incommentabile Tralasciando i 3000 like e i 2500 dislike Ovviamente Per quale motivo Per quale motivo Si ridicolizza così? Cioè, ma io non è possibile, no Ad esempio, io non so cucinare Posso fare un video di cucina con mia mamma Perché lei sa cucinare Ma io non fare mai un video dove cucino qualcosa Perché non sono capace, non so fare nemmeno un uovo Sbattuto Figurati se so fare un babà Ma poi è stato impressionante Quando ha preso quel bicchiere di rum E mi ha messo il bicchiere La parte più bella però è l'ultima Quando prende con le mani e comincia a fare il battesimo Al babà Ha fatto un pssh Ce lanciava così lei Ma poi non lo vedi che è così basso Cioè, è continuo Allora, nella sua lista di Amazon Questa volta andiamo a ricontrollare Perché io l'avevamo controllato l'altra volta Vediamo questa volta che cosa c'è Questo è per noi Ma ora che siamo sopravvissuti al video di Follettina Sì, sì, sì Non stanno parlando i napoletani Sono andati sotto case di Follettina Però, noi lo chiamavamo Meglio giocare con le bambole Torna le bambole e ti prego Buttate le sue bambole La cucina a cana Lascia la stava Perché non è proprio l'ambiente duro Allora, nella lista dei regali per Follettina Creation Cioè Una scheda di memoria microSD da 32GB da 13€ Ah, vabbè Un completo letto matrimoniale Microfibra 7 Lenzuola 3 pezzi Sopra sotto con le angoli Federa Poi scastagna 13€ Poi un completo letto Un altro completo Ma sono solo letti Poi ci sono di nuovo Gli abbinamenti per la bambina La bambola Poi c'è La camicia Calzini Bibbia Poi vestiti di cappello Per ragazza Bambola Tutto da 15€ C'è più vestiti A bambina Senti Guarda Ti cucino io Ti giuro Facciamo video Ricette insieme Spacchiamo La nostra bellezza E la nostra simpatia Follettine Follettine Lobos Come lo possiamo chiamare Io e lei insieme Folle Show Ma io voglio vedere La reazione Di Craco Per me l'avrei buttata Tu sei follettina Tu lo presenti A master chef Lui l'ha fatto Questo dolce Una merda Neanche assaggio Comunque Io direi che forse Per oggi abbiamo anche Concluso qui Io non ho più Niente altro da aggiungere Se volete D'altro video Reaction Parodio Quello che volete Di Follettina Che le lascio Sempre in compagnia Di mia mamma Raggiungiamo 25.000 Mi piace Niente ragazzi Io per oggi La chiudo qui Noi ci vediamo Al prossimo video Tanti cari saluti E aspettiamo la reaction Di Craco Ovviamente Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie.